Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Fortnite vi spiegherò come completare la sfida della settimana 6 Prendi un'arma a capanna catasta. La capanna catasta praticamente è questa costruzione, questa capanna su questo piccolo isolotto che adesso vi mostro al meglio. Quindi atterrate qui praticamente, vedete, dove c'è sabbie sudate o siepi d'agrifoglio qui su questo isolotto piccolino, atterrate qui, entrate qui dentro e prendete un'arma. Ora ovviamente non c'è, quindi nel caso non ci fosse non penso che questa sia valida perché avete bisogno proprio di un'arma. Quindi quando la sfida sarà disponibile voi atterrate qui, se c'è un'arma la raccogliete e così la sfida è completata.